Sì, buonasera Alessio. Come giustamente dicevi il traffico si sta intensificando e particolarmente attorno all'area penninica. Ma vediamo a proposito le telecamere e iniziamo proprio dalle porte di Firenze. Vedete traffico molto intenso, qui siamo sulla 1, ci sono forti rallentamenti. Sulla sinistra del telescarmo vediamo auto che vanno lungo la direttrice nord-sud che è quella preferita dagli italiani per queste vacanze pasquali. Quindi verso Roma il traffico qui è più intenso. Dall'altra parte invece si procede verso Bologna per dettare un attimo i tempi. Qui tra Roncobilaccio e Firenze e Certosa in un arco chilometrico di 35 km ci vogliono due ore e mezza di percorrenza, quindi circolazione e traffico sostenuto. Situazione meno trafficata invece la vediamo qui sulla 4 Milano-Venezia. Le auto in primo piano vanno in direzione del capoluogo Veneto. Qui c'è meno traffico. La stessa situazione anche sulla 14 Adriatica. Sulla destra del telescermo vediamo auto che vanno in direzione delle Marche lungo la costiera romagnola. Dall'altra parte invece si procede verso Bologna. Torniamo sull'autosole. Qui siamo alle porte di Napoli, in entrata a Napoli. Le auto sulla sinistra dello schermo vanno verso gli imbarchi e verso la penisola sorrentina. I mezzi pesanti non circolano fino alle 16 di domani. Il traffico si manterrà molto sostenuto, dicono qui dalla Società Autostrade per l'Italia. Fino alle 21 di questa sera poi lentamente calerà. Staremo a vedere. Staremo a vedere.